Il punto sulla chimica verde a Porto Torres per capire se le reali intenzioni dell'Eni sono quelle di investire sugli impianti di matrica e di rispettare i protocolli istituiti con la regione e le parti sociali. Questo è il motivo dell'incontro convocato a Sassari dal presidente Francesco Pigliaru e dall'assessore dell'industria Maria Grazia Piras, al quale hanno partecipato i sindaci del territorio e le rappresentanze sindacali. Dopo lo stallo sull'accordo stipulato nel 2011, la regione ha iniziato una fase di pressing nei confronti dell'Eni, ottenendo come risultato, è stato detto, un rinnovato impegno da parte della multinazionale. La fiducia negli investimenti di chimica verde è molto più alta di prima, ha detto il presidente Pigliaru. Adesso è importante fare l'ultimo passaggio tutti assieme fino a che non avremo un accordo di programma quadro credibile, preciso nei tempi, nelle risorse e nei posti di lavoro che verranno creati. Intanto però nessuno sa più niente di come matrica intenda realizzare quel collegamento con l'attività agricola che avrebbe dovuto fornire la materia prima, l'olio vegetale, per il semilavorato che produce l'impianto. Non si vedono più campi di cardi e nei laboratori di Porto Torres non si fanno più gli studi su quella o altre piante oleaginose, mentre sono visibili a tutti le autobotti di olio provenienti dall'Africa o da chissà dove, stipate in un parco vicino alla strada Perstintino. L'unica possibilità per un accordo quadro credibile allora sarebbe l'impegno di Eni per grossi investimenti su una serie di stabilimenti di lavorazione del Materbi e quindi di prodotti finiti in bioplastiche. Finora infatti lo stabilimento matrica da lavoro a pochissimo personale e non costruisce indotto né per l'agricoltura né per l'industria.